Struttura, centimetri forza, centrocampo rifatto ex novo, ma piuttosto affollato. In uscita solo Crecco e Diambo. Se non consideriamo Maestro e Macin, che sono comunque utilizzabili da intermedi, il guineano a dire il vero anche da regista, ben nove elementi. Valdifiori, Fernandez, Busellato, Memushai, Omeunga, Rigoni e gli ultimi tre arrivati, Tabanelli, De Sena e Basit. Senza dubbio la mediana ideale è quella composta da Rigoni, vertice basso, De Sena e Tabanelli, mezziali. Insomma, le soluzioni non mancano. Starà ora a Breda trovare la quadra. Dal punto di vista tattico dovrebbe essere confermato il 4-3-2-1 o 1-2 con un trequartista e due punte. Al suo arrivo il tecnico trevigiano ha trovato solo macerie. Condizione fisica approssimativa, squadra senza identità, classifica dir poco precaria. Appena quattro punti in nove giornate con ben sette sconfitte al passivo. La ricostruzione non è stata affatto facile. Bilancio positivo sino alla vittoria di Reggio Emilia prima della sosta. 12 punti in otto partite. Poi tre sconfitte, l'ultima sul campo del Chievo, prima della rivoluzione dell'ultimo giorno di mercato. Sulla carta colmate le gravi lacune di centrocampo. Il cuore di qualsivoglia squadra di calcio. In attacco è arrivato Giannetti. In difesa Sorensen è destinato a crescere. Stessa cosa dicasi per il centrocampista Nicola Rigoni. Calciatori arrivati a Pescara con pochissimo minutaggio. Insomma, anche Breda non potrà sbagliare. La classifica dice ultimo posto. Sabato prossimo lo scontro diretto con la regina all'Adriatico. Sfida tra due delle squadre che a gennaio hanno cambiato di più. Ben 11 le operazioni in entrata del club calabrese. Mikovski, Lakicevic, il portiere Nicolas ex Lanciano, Dallemura, Montalto, Crimi, Edera, Ocuonquo, Chisley, Chierico e Petrelli. In palio punti pesanti. I biancazzurri dovranno provare a vincere senza tuttavia rischiare di perdere.